nome jessica luca ruolo e dipartimento digital marketing specialist nel dipartimento swiss business operations purchasing specialist ufficio acquisti da quanto tempo lavoro in ipsa da giugno 2022 da gennaio 2024 ma in realtà lavoravo già in ipsa cinque anni fa però come si suol dire il primo amore non si scorda mai vi conoscete no no jessica luca piacere che lavoro pensi che faccia il tuo collega allora luca ha detto che lavora nell'ufficio acquisti quindi immagino che sia contatto con i fornitori telefonate gestione dei contratti ricerca anche magari anche qualcosa con i colleghi per quanto riguarda disponibilità dei prodotti materiali cose di questo tipo jessica ha detto che fa digital marketing specialist quindi presumo che analizzi molti dati quello che può essere il mondo social interazioni nella rete internet qual era la tua materia preferita a scuola bella domanda probabilmente storia io credo scienze perché mi è sempre piaciuto scoprire come funziona il corpo umano cosa pensi dell'intelligenza artificiale io dell'intelligenza artificiale ho un ottimo parere nel senso che penso che sia una cosa positiva molto buona ma è importante l'utilizzo che se ne fa sì anch'io dell'intelligenza artificiale ho un parere che utilizzo il termine ibrida nel senso che dietro l'intelligenza artificiale penso che ci debba essere comunque un intelligenza umana che possa sempre gestire questa intelligenza artificiale perché lasciare tutto all'intelligenza artificiale lo vedo troppo rispioso vuoi fare un saluto ciao luca alla prossima il pranzi sono persa scusate